E ieri, in occasione dei 200 anni dalla nascita della riformatrice delle suore Betlemite, è stata celebrata una messa dal Vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi, messa che è stata trasmessa in diretta da Teledeon. Allora, ascoltiamo uno stralcio dell'Omelia di Monsignor Manzi. E una di queste figure, certamente, è la Beata Maria dell'Incarnazione. Per cui la nostra celebrazione oggi è innanzitutto una celebrazione di ringraziamento. Vogliamo ringraziare Dio per averci dato questa bella figura di santità, per avercela fatta conoscere. Non vi nascondo che io, prima di venire ad Andria, sapevo molto poco, appena appena avevo sentito nominare in qualche circostanza. Ma ora che l'ho conosciuta, ringrazio il Signore di avermela fatta conoscere. Perché attraverso questa bella figura di santità, ho visto davvero come la fantasia di Dio è infinita nel generare, nella storia degli uomini, sempre nuove, belle e grandi figure di santità. E noi stiamo a rendere lode al Signore, perché questa figura di santità arricchisce la Chiesa con la sua testimonianza, ormai da 200 anni. Quest'anno, come sapete, è una celebrazione giubilare. Quindi, prima di tutto, una preghiera di ringraziamento. Grazie, Signore, che ci hai fatto conoscere questa figura, che ce la fai amare, che ce la metti davanti a noi per incoraggiarci a vivere nell'amore come lei è vissuta nell'amore. Consumandosi, a vedere la data della sua morte, 66 anni, morta giovane, consumata dunque da una vita impregnata di amore. Ecco, cari fratelli e sorelle, prima di tutto il ringraziamento e poi un affidamento. Affidiamo alla sua protezione il nostro cammino di fede. Il cammino delle nostre suore, perché siano fedeli al loro carisma. Il cammino di tutti coloro che, a vario titolo, si ispirano alla sua testimonianza. Il cammino della nostra Chiesa, che si ritiene fortunata per avere nel suo grembo questa presenza.